A partire dall'esperienza ventennale del centro di ricerca DISF presso la Pontificia Università della Santa Croce e con il sostegno della conferenza episcopale italiana, il progetto DISF Educational ha realizzato una piattaforma dedicata al mondo della scuola. Il nostro sito offre contenuti e materiali per il lavoro interdisciplinare e si rivolge ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie. Il sito è composto da diverse rubriche, percorsi tematici, grandi domande e video di attualità interdisciplinare. I percorsi tematici affrontano temi trasversali rispetto alle varie materie di insegnamento. Ogni percorso è composto da una scheda tematica, un riassunto in pillole, numerosi documenti di approfondimento e tracce di lavoro da svolgere in classe o a casa. In grandi domande abbiamo una prima risposta breve, che viene poi approfondita attraverso ulteriori sottodomande. Il testo è accompagnato da documenti di approfondimento e da un glossario con i termini chiave. La sezione video offre contenuti audiovisivi, molti dei quali prodotti dalla American Association for the Advancements of Science, con sottotitoli in italiano curati da noi. Stiamo inoltre completando una quarta rubrica intitolata Cercatori di senso, su questioni di carattere teologico e culturale. Il nostro obiettivo è quello di offrire un orientamento didattico capace di impostare in maniera solida e documentata un dialogo tra cultura scientifica, filosofia e pensiero scientifico. Il Disp Educational vuole promuovere un approccio integrato tra sapere scientifico e sapere umanistico, capace anche di aperture teologiche su temi di attualità culturale. Creazione ed evoluzione, dal caso Galilei all'intelligenza artificiale, la crisi ecologica e il transumanesimo. Che cosa ha da dire il cristianesimo su tutto ciò? Su Disp Educational trovate questi e molti altri temi. Se sei uno studente o sei un professore e vuoi saperne di più, visita il nostro sito disf.org.edu.